C'è chi parla di un uomo allevato dai criminali più malvagi del mondo, educato da una confraternita esiliata dalla Chiesa, con uno scopo, liberare il mondo da tutto il male che lo afflicce. Hitman, l'assassino, è basato su una vendutissima serie di videogiochi e racconta la storia di un killer geneticamente modificato conosciuto come Agente 47, un uomo misterioso e complesso, ricco di contraddizioni. La sua posizione è stata scoperta. Agente 47 uccide, obbedisce agli ordini, salta dall'ultimo piano di un edificio e non si fa nulla, è stato programmato per non provare emozioni, rivela poco di se stesso. Infatti tutto quello che sappiamo di lui è che non ha un nome ed è conosciuto solo per le ultime due cifre di un codice a barre tatuato dietro la sua testa. Molti videogiochi come questo, con il hitman e il crash, sono molto controverso perché della violenza invece di loro. Hai raggiunto questo tipo di gioco? E hai raggiunto con i bambini che non piacciono i bambini di giocare con i videogiochi come questo? Sì, no, io capisco. Io non potrei venire gli a… …i non potrei venire 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 molto poco. Io non sono più che fai tra la violenza o un'esercizio o un'esercizio. Io ho presentato alle museioni all'inizio in Europa e c'è molto violenza in l'attivo, in questi masterpieces. E ho perfettamente bene con questo. Ho credo che, per me personalmente, sono troppo piaciuto quando va all'arporto e sono città dire città non fin l'att soi. for my flight che ci fai qui hai proprio una bella famiglia stanno bene sani salvi dormono siedi tu sei un buono rispettore penso di sì anche se hai ucciso degli uomini sì talking about the the role how did you prepared under a physically point of view the day after i accepted the role i went to the gym and i would be after well i had a lot of work to do in a short amount of time i really only had a few weeks to to get in shape and i thought it was important to sort of you know to believe the character is capable of what he does to put on as a much muscle mass as possible in a short amount of time so that was the first that was you know that was the first thing we had to get to right off the bat rest of the training we did as we shot you know days off rehearsals on the weekends shoot during the day and then go meet with the trainers at night that kind of thing so 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 Grazie per la visione!